buongiorno a tutti buongiorno a tutti oggi siamo qui con i ragazzi di of passion che sono francesco e valeria prego salita pure sul palco buongiorno e siamo in compagnia della ministra dadone prego bell'applauso innanzitutto buongiorno e benvenuta alle comics oggi siamo qui in questo tempio di fantasia e ricreazione per quanto sono importanti fantasia e ricreazione per il nostro paese innanzitutto grazie dell'accoglienza molto calorosa e dell'invito in particolare sono molto contenta di essere qui principalmente non solo come ministro per le politiche giovanili ma per passione personale sono una di quelle che si definirebbe una nerd per cui questo è decisamente il mio posto questi sono decisamente le manifestazioni che apprezzo quanto è importante la fantasia tantissimo tantissimo sia perché ci permette di volare oltre i confini di ciò che la realtà ci permette che perché ci fa vedere ciò che potremmo vedere in un'altra maniera con una visione che decisamente più creativa ci ci permette di fantasticare in alcuni casi ci permette di trovare del lavoro quando sia un'iniziativa che veramente brillante per cui direi che troppo spesso viene data quasi un po per scontato come se fosse un hobby la la fantasia e l'immaginazione invece dovremmo imparare a coltivarla di più anche parlandone e moltiplicando eventi come questi che permettono non solo ai ragazzi di aggregarsi ma anche di provare un po fare scambio di quelle che sono delle vere e proprie culture tra l'altro i giovani in questo periodo di pandemia hanno proprio bisogno di qualche stimolo che cosa stiamo facendo per cercare di creare talento e scoprire magari anche di nuovo? beh allora stiamo stanziando nuovi fondi io in particolare legato chiaramente al periodo pandemico perché non ci dobbiamo ricordare che siamo usciti da un 2020 che è stato molto pesante guardo in particolare l'assessore qui di Alessandria chi ha amministrato e gestito come noi un'esperienza importante come quella pandemica sa quanto sia stato difficile per i ragazzi in particolare per il disagio abbiamo stanziato un fondo che è bello corposo di quasi 35 milioni che abbiamo diviso adesso con le regioni l'obiettivo è riuscire a finanziare delle progettualità che siano anche di arte di disegno di musica ma che permettono ai ragazzi di condividere quello che hanno provato le emozioni anche forti oltre di tristezza di ossessione che hanno provato durante la pandemia ma questo è limitato secondo me a un piccolo frangente poi bisogna avere un quadro più generale che non sia solo legato alla fase emergenziale quel che posso dire io è che da quando siedo per mia fortuna in un ministero che è un ministero particolarmente stimolante quello che ho provato a fare è stato di creare un canale di discussione con i ragazzi anche tramite le dirette twitch era un canale che io come ho detto qualche volta non conoscevo prima quindi mi sono creato ho cominciato a fare delle chiacchierate con dei content creator con degli influencer con dei pro player professionisti e oggi con questi due bravissimi ragazzi piemontesi quindi dei nostri conterranei avrò molto piacere a fare questa chiacchierata con voi per provare a dare un po' di ispirazione io vedo che c'è un po' di sconsolazione in generale nei ragazzi quindi forse quel che serve è anche non solo raccontare che cosa non va che cosa non va lo sappiamo tutti e dove dobbiamo andare a intervenire in particolare su una formazione che sia più stimolante e ne siamo a conoscenza quello che dovremmo provare a portare maggiormente ad esempio sono i casi positivi di ragazzi che sono riusciti grazie alla propria determinazione e creatività a creare impresa a crearsi un lavoro che è un lavoro che principalmente non è che dia soltanto un sostentamento ma che li renda felici soddisfatti e che li faccia diventare un modello per gli altri ragazzi quindi è un po' questo il motivo per cui oggi sono anche tanto contenta di essere qui con voi hai qualche altra domanda per me se no passo direttamente a voi due ragazzi vi saluto e vi ringrazio intanto per la disponibilità voi ad Alessandria immagino siate conosciuti io sono della provincia di Cuno però devo essere onesta prima che la mia collega Susi Matriciano mi presentasse la vostra attività non la conoscevo per cui ci è venuta l'idea di fare questa diretta Twitch proprio da qui e ci siamo detti abbiamo dei ragazzi che sono riusciti ad applicare alla robotica l'idea della formazione io ho visto un po' il sito della vostra azienda voi la fate per tutti per i bambini e per gli adulti com'è che vi è nata questa passione com'è che vi è venuta questa idea principalmente perché mi sembrate entrambi abbastanza giovani sicuramente più o meno come più o meno dico sempre più o meno perché vale effettivamente molto giovane io un pelo meno beh vale che quanti anni hai? io ho 20 anni non è elegante chiederle alle ragazze ma sdoganiamo subito in 98 invece e allora sei giovanissimo politiche giovanili in Italia arrivano a 35 anni mi sono posta l'obiettivo di abbassare questo target per portarlo a 29 come gli altri paesi europei però siete siete giovani com'è che vi è nata questa questa passione com'è che avete pensato dalla robotica di provare a parlare non solo ai ragazzi ma anche alle persone adulte di formazione tramite questa passione di poter insegnare le soft skills perché questo ho letto che è lo scopo della vostra azienda sì è proprio questo siamo molto contenti che hai capito quello che noi facciamo perché molto spesso ci viene detto che insegniamo solo robotica e quindi quello che facciamo è cominciato un po' quando io ero piccola quando ho scoperto la robotica un po' per gioco a 11 anni in un coder dojo i coder dojo sono dei corsi di robotica e programmazione che vengono fatti in giro per il mondo per avvicinare bambini e ragazzi al mondo del coding e della robotica io sono stata lì ho scoperto la robotica e senza avere nessuna competenza volevo costruire un robot e seguendo dei video su youtube sono davvero riuscita a costruirlo questo robot e dopo poco ho scoperto che non era così tanto comune che una bambina di 11 anni costruisse robot e così ho cominciato a essere invitata a vari eventi conferenze che mi hanno portato a parlare in diverse conferenze in giro per l'Italia e anche a 14 anni in un TEDx però poi volevo fare qualcosa di diverso ho visto i video della Boston Dynamics, quei robot spettacolari che saltano, fanno capriole, ballano al ritmo di musica e io volevo andare a conoscere i creatori i creatori erano all'MIT di Boston e avevo 15 anni e si è stata all'MIT di Boston? come ti sei trovata lì? Non è stata un'esperienza incredibile? io l'immagino, non ho mai vissuto un'esperienza di questo tipo però quando ho letto sul tuo curriculum che sei stata lì ho detto wow, a quell'età deve essere stata un'esperienza di apertura mentale incredibile assolutamente sì, è stato bello perché io all'inizio sono andata lì per imparare robotica quindi semplicemente per costruire un robot che funzionasse con principi di machine learning, computer vision però lì in realtà ho scoperto un modo completamente diverso di fare educazione e lì ho scoperto che l'educazione non deve per forza essere noiosa come purtroppo ero sempre stata abituata io nella scuola ma poteva essere divertente, si poteva giocare anche imparando le cose più complesse o creando le più grandi invenzioni al mondo e così quando sono tornata in Italia, a 16 anni, ho cominciato un po' per gioco all'inizio solo a insegnare robotica e poi in realtà... solo a insegnare robotica? non so il pubblico ma solo a insegnare robotica mi sembra già una cosa decisamente di alto livello per una ragazza di 16 anni a chi insegnavi robotica? Scusa che sto curiosa io insegnavo a usare motorini, led, arduino e all'inizio costruivamo anche con i bambini robot abbastanza complessi che magari avevano una scheda elettronica, che avevano dei sensori poi in realtà ho scoperto che anche quando ho conosciuto Francesco che alle persone non serviva solo imparare delle competenze tecniche perché oggi le competenze tecniche sono semplicissime da imparare basta usare la tecnologia e si può imparare qualsiasi competenza tecnica ma la parte più importante erano le soft skill quindi ho un po' cominciato a insieme, abbiamo cominciato a usare la robotica come mezzo per insegnare competenze trasversali, insegnare alle persone a essere creativa ad avere il proprio solving, a lavorare in gruppo tutte queste cose sempre giocando e divertendosi abbiamo anche creato un metodo educativo su questa cosa perché per noi è fondamentale che le persone giochino mentre allo stesso tempo imparino senza rendersene conto e Francesco tu com'è che ti sei appassionato? sei stato anche tu all'MIT oppure hai avuto un'esperienza diversa? guarda Fabiana Sarossi perché la sua è già surreale e io infatti non potrei mai vincere contro un'esperienza del genere dovevo far partire te allora ma siccome siamo abituati a fare questo tipo di cose e lei racconta sempre la sua storia perché è incredibile e su questo siamo d'accordo io arrivo e dico semplicemente io l'ho conosciuta e dove l'hai conosciuta a questo punto? e questo in realtà è stato il grande successo della mia vita scherzo su questa cosa ma in realtà insomma è stato un incontro un po' casuale ma il filo conduttore è sempre la tecnologia perché un giorno su Facebook facendo scroll proprio banalmente ho visto un articolo di un famoso quotidiano un famoso giornale italiano che titolava che una quindicenne di San Michele Alessandria era volata all'MIT di Boston e io sono della zona quindi abito in un paesino qua dell'Alsnerino e quando ho visto quella notizia sono impazzito perché io sono laureato in informatica e quindi la tecnologia è il mio mondo, il mio pane in quel momento particolare della mia vita avevo già 24-25 anni non ero contento di quello che stavo facendo avevo un lavoro avevo un sacco di bene stavo benissimo dal punto di vista meramente economico se vogliamo ma non stavo bene psicologicamente non mi sentivo a mio agio e cercavo una scappatoia una scintilla qualcosa che mi facesse ripartire e l'ho trovato in Valeria e la cosa assurda sembra una storia un po' da film però è andata davvero così io dopo quell'articolo che ho mangiato letteralmente le ho mandato una richiesta in amicizia e lei me l'ha accettata e ha accettato evidentemente ma qualcosa è successo che insomma questo sogno di questa scuola che lei voleva creare è diventato realtà in pochissimo lei torna da Boston appunto ha questa idea un po' folle e dice vabbè iniziamo a fare delle lezioni di robotica solo che queste lezioni sono talmente belle talmente innovative che tutte le persone qua del circondario iniziano a bombardarla di richieste e lei è da sola una ragazzina di 16 anni ha bisogno di una mano e sempre su Facebook fa un post a a a cercasi io ho visto quel post mi sono candidato immediatamente ho scritto credo la mail più bella della mia vita piena di passione io non sapevo nulla di quello che lei facesse ma volevo farle capire che io potevo dare qualcosa alla sua realtà e da quel momento sono passati tipo 3-4 mesi e io in quei 3-4 mesi ho pianificato di lasciare il mio lavoro e così poi è andata e di aprire insieme a lei Off Passion la nostra azienda di robotica educativa e di partire per questo sogno che insomma adesso continua a essere un sogno ma è realtà decisamente cavolo avete fatto veramente quel salto in avanti rispetto al fatto che siete riusciti a crearvi un'attività lavorativa che vi appassiona principalmente noi parliamo spesso anche a livello governativo di come fare a trattenere ragazzi in Italia poi l'unica risposta che ci siamo dati è che il punto vero non è soltanto farli trovare un lavoro e far trovare un lavoro che li appassioni e li faccia sentire realizzati e voi oggi direi che avete espresso appieno questo allora visto che tu sei laureato però in ingegneria informatica informatica e basta informatica poi gli ingegneri si arrabbiano sì no no per carità scusami l'ho dato per scontato io fratello ingegnere per cui ho dato per acquisito che tu fossi anche tu ingegnere laureato in informatica ti sarai confrontato con lei sulla laurea rispetto che ha fatto a Boston quanto la formazione in Italia avrebbe bisogno di provare ad apprendere magari da quella estera rispetto ai metodi formativi oppure avete trovato un modello analogo cioè spesso si dice che in Italia la critica che si fa alle scuole non soltanto alle universitarie ma anche alle scuole superiori e alle medie che ci sia molta lezione frontale e molto poco lavoro di gruppo molti pochi laboratori molti pochi metodi alternativi per provare ad insegnare in una maniera che sia stimolante divertente che diventi poi propedeutica al lavoro voi questo tipo di confronto ve lo siete fatto tra di voi avete notato che c'è effettivamente una discrepanza oppure è semplicemente che l'MIT allora a un livello suo migliore perché viene raccontato in maniera differente e anche le scuole italiane sono da questo punto di vista all'avanguardia o secondo voi invece servirebbe mettere un ulteriore attenzione su un metodo di insegnamento che sia differente non solo nelle scuole specializzate ma anche nelle scuole diciamo dell'obbligo l'ho fatta lunga potevo chiedere va benissimo io quando sono stata all'MIT sono stata lì per tre mesi e sicuramente ho visto un modo diverso di fare educazione un modo molto più informale quindi un modo che avesse molta meno distanza tra gli studenti e gli insegnanti e questa è una cosa che fa sicuramente tanto e poi sicuramente l'università lì è molto pratica io ho lavorato alla costruzione di questo robot e questo robot non veniva costruito in maniera teorica era proprio lì fisico che si poteva toccare c'era molta attenzione anche tutta la parte di gioco e divertimento per esempio io ho lavorato nel progetto Ducky Town e lo dice già il nome del progetto Città delle Papere praticamente loro avevano queste piccoli robot che erano tipo dei veicoli autonomi come una Tesla che non si muovevano in una città che aveva gli omini stilizzati ma aveva gli abitanti che erano le paperelle quelle gialle con cui giocano i bambini dell'asilo e già questa cosa è folle da pensarla in un'università italiana lì invece era la cosa normale perché non erano matti quelli del progetto Ducky Town succedeva la stessa identica cosa in tutti i dipartimenti dell'MIT e questo a me ha affascinato e quindi da quel momento abbiamo deciso che ho deciso e poi è stata una decisione che abbiamo condiviso insieme che anche l'Italia poteva aver bisogno di qualcosa di diverso quindi adesso il nostro metodo educativo si basa proprio su un'educazione diversa in cui si impara facendo tramite il learn by doing in cui tutti sia quelli che noi definiamo mentor che sono i classici insegnanti che i dreamer che sono gli studenti e si mettono tutti allo stesso livello noi normalmente facciamo attività per terra senza scarpe in cerchio in cui tutti indifferentemente dal background sono allo stesso livello perché noi crediamo che debba essere sempre uno scambio reciproco in cui tutti possano avere da imparare da tutti quindi come ci dice il nostro utente l'educazione deve intrattenere non trattenere soltanto provare a stimolare per tirare fuori la creatività che c'è poi nei ragazzi perché forse anche un po' questo è il limite mi ricordo quando ho frequentato giurisprudenza quindi un altro genere di università che è completamente anche quella secondo me troppo teorica ma mi ricordo già anche al liceo i laboratori erano quasi inesistenti se ci avessero spinto a provare qualcosa di più pratico forse anche io avrei provato una via come questa perché purtroppo si parla spesso del fatto che anche le ragazze si appassionino poco alle materie come la robotica però tu sei il caso vivente che quando uno si appassiona in realtà non ne fa una questione di appartenenza al genere maschile o femminile ma ne fa una questione di passione lo fa e basta bisognerebbe far vedere forse anche il lato umano di quello che si riesce a fare con le discipline come quelle della robotica per cui io penso che anche questo non sia un aspetto da sottovalutare forse nelle scuole in termini di orientamento andrebbe portato cioè io credo che portare voi due in una scuola a dire che cosa si può fare grazie alla robotica che tipo di attività lavorativa si possono creare dei ragazzi possa essere un esempio per riuscire a scegliere anche il percorso da fare in maniera consapevole e ora vado alla domanda delle domande che difficoltà avete trovato non mi rispondete alla burocrazia perché questo lo immagino però che tipo di altre difficoltà avete trovato a fare impresa in Italia la burocrazia era servita è frecciata all'ex ministro della funzione pubblica era servita troppo su un piatto d'argento si trammessa io su un piatto d'argento allora devo dire che sarò molto onesto e complicato effettivamente in Italia fare impresa ma non credo solo per i giovani credo sia un problema strutturale di formamenti insomma al di là della battuta sulla burocrazia però è vero c'è mancanza proprio di cultura dell'imprenditorialità ed è assurdo in un paese che in realtà fa dell'imprenditorialità il suo successo perché è uno dei paesi al mondo che ha il numero più alto di piccole e medie imprese quindi questo è incredibile è incredibile come non ci sia una cultura e come insomma i nostri ragazzi siano per certi versi anche qua vado direttamente sui giovani sì un po' disincentivati a farlo perché insomma è complesso non ci sono molti aiuti il tema economico è sempre scottante perché effettivamente non c'è nessuno che ti insegna a fare impresa manca la cultura di impresa manca proprio che cosa vuol dire fare impresa banalmente adesso stiamo parlando di questa cosa ma dal punto di vista anche meramente economico manca proprio la base che cosa vuol dire insomma gestire una partita doppia banalmente all'interno di un'azienda si pensa sempre non so ai mindset dei grandi CEO della Silicon Valley ma in realtà non dobbiamo partire da quelli dobbiamo partire dalle basi in Italia perché ci mancano quelle ci manca proprio il punto di partenza è bello volare alto fare le aquile però se non sappiamo neanche spiccare il volo dovremmo forse partire da quelli sì è vero ma io infatti devo dirvi che la scorsa settimana ne stavo proprio parlando insomma all'interno del consesso di cui faccio parte quindi del governo del fatto che effettivamente manca una formazione anche in termini di economia di base di capacità di imprese di base noi ci aspettiamo che i ragazzi si lancino ma poi non li formiamo minimamente su questo e allora ci sono alcune regioni che riescono ad utilizzare i fondi delle politiche giovanili in questo alcune regioni sono super all'avanguardia altre un po' di meno è chiaro lì dipende poi dalla sensibilità di chi nel territorio gestisce diciamo i fondi e riesce a direzionarli su quello però io penso che effettivamente provare a dare a tutti una formazione di base per riuscire anche a capire come aprirsi banalmente una partita IVA potrebbe aiutare perché altrimenti poi il ragazzo si trova ad uscire a 18 anni nel mondo del lavoro anche se potrebbe partire anche prima anche verso i 16 come sei partita tu Valeria e non ha idea di dove guardarsi intorno allora o uno ha la fortuna magari di avere una famiglia dietro che è molto forte io immagino che voi abbiate delle famiglie che vi abbiano dato almeno un supporto e un sostegno non è solo una questione economica ma anche un supporto in termine di coraggio ad intraprendere ciò che volevate fare ma chi non ce l'ha se non ha uno Stato che li riesca a mettere nelle condizioni di essere tranquillo su questo punto di vista difficilmente si riesce a lanciare io so che i tuoi genitori per esempio erano già piccoli imprenditori se non erro l'ho letto sì 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 i miei genitori sono imprenditori ma si occupano di tutt'altro fanno impianti figurifiche industriali e anche se quindi grandi imprenditori io ho detto piccoli perché sono abituata a pensare al tessuto delle piccole e medie imprese sì 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 comunque loro anche se in un certo senso non hanno mai capito un granché dell'ambito robotico perché non fanno assolutamente quello quello che mi hanno permesso di fare fin da quando ero piccolissima è di aiutarmi di permettermi di partecipare a eventi in giro per l'Italia per l'Europa anche se magari non erano cose che capivano profondamente ma capivano che potevano essere importanti per il mio futuro e anche hanno avuto il coraggio di mandarmi da sola 15 anni a Boston cosa che non tutti i genitori fanno sì sì è vero io lo dico anche da mamma sono un po' chioccia anch'io in questo atteggiamento l'idea di mandare un figlio così giovane oltreoceano a far fare un'esperienza di questo tipo un po' di suggestione crea però poi però in realtà è un'opportunità notevole che non tutti i ragazzi purtroppo hanno la scuola forse potrebbe aiutarli in questa direzione a capire permettere ai ragazzi di scoprire tantissimi campi capire qual è la loro passione e poi fargli capire che oggi con un computer con una connessione a internet si può davvero scoprire qualsiasi cosa in giro per il mondo che non è poi così difficile scrivere un messaggio su Instagram o mandare una mail a un personaggio che vorresti conoscere o un luogo dove vorresti arrivare secondo me è proprio quello che manca insegnare ai ragazzi l'autostima e il coraggio di voler inseguire i propri sogni e capire quali sono le proprie passioni sì io credo che sia proprio un po' questo il senso si parla sempre troppo di ciò che per quello che dicevo di ciò che non funziona non gli si dà mai coraggio secondo me descrivendo esempi raccontando in realtà come la vostra gli diamo un rule model come si dice un esempio concreto di ciò che ha funzionato dicendo ci sono ragazzi di vent'anni che un po' di più che ce l'hanno fatta oggettivamente forse inseguendo i propri sogni un po' questo forse che manca anche troppo nella narrazione in televisione vediamo spesso il non funzionante ma è l'eccellenza quando invece ce n'è tanta scendendo nel pratico raccontateci che cosa fate effettivamente quando parlate di con la robotica riusciamo a far capire alle persone e a sviluppare le soft skills che hanno magari non sanno anche di avere o hanno in parte e non hanno sviluppato abbastanza le fate immagini con dei programmi che sono per fasce d'età suppongo partite dai bambini di che età per esempio partiamo dai bambini di 2-3 anni e arriviamo poi a ragazzi più grandi ragazzi delle superiori ma poi anche a tutto il mondo degli adulti facciamo attività con insegnanti o con il mondo dei manager con le aziende noi non dividiamo tantissimo per fasce d'età noi molto spesso facciamo attività con bambini e ragazzi dei 3-15 anni insieme e questa cosa può sembrare molto strana in realtà noi crediamo che sia un valore aggiunto perché non è per forza sempre quello più grande che aiuta quello più piccolo ma può esserci uno scambio bidirezionale in cui per esempio ci può essere il più piccolo che è più creativo quindi può insegnare a quello più grande come decorare il robot o magari la cosa più ovvia che è quello più grande aiuta a fare un passaggio più difficile e cose di questo tipo però è sempre uno scambio bidirezionale anche per esempio solo ieri abbiamo fatto attività con dei bambini ed è per noi sembrava una cosa assurda ma la bambina più piccola che c'era giocava con il ragazzo più grande che c'era e loro avevano 7-8 anni di differenza l'uno dall'altro però hanno giocato tutto il giorno insieme quindi secondo me il fatto di dividere per fasce d'età è più un concetto un preconcetto di noi adulti che i bambini devono per forza giocare con quelli 7 anni esattamente con quelli 7 anni e invece i bambini e i ragazzi giocano in maniera fluida insieme e con loro per esempio ne facciamo tante attività che vanno da 2-3 ore fino a giornate intere o attività più lunghe come possono essere summer camp presidenziali per esempio quest'estate abbiamo fatto attività con 150 ragazzi in summer camp presidenziali oppure facciamo anche altre attività che vanno sulla fascia d'età più grande oltre i 15 anni facciamo delle attività di mentoring in cui permettiamo ai ragazzi di scoprire le loro mie passioni li aiutiamo a se non l'hanno ancora trovata dando gli tanti stimoli capire cosa gli piace davvero e poi aiutiamo a coltivarla con questa passione gli insegniamo come può essere mandata una mail come si può creare un account Instagram per raccontare la propria idea quindi cerchiamo di farli crescere e fargli capire come possono trasformare quello che gli piace un po' nel loro futuro nel loro lavoro per essere felici e poi invece con tutto il mondo dei grandi degli adulti per esempio con le aziende facciamo dei percorsi strutturati o dei team building in cui aiutiamo le persone a capire come possano davvero riuscire a fare in modo che tutte le persone che vivono la realtà aziendale possano essere felici e soddisfatte di quello che fanno all'interno dell'azienda perché anche se può sembrare una cosa banale in realtà se le persone sono felici e soddisfatte di quello che fanno ne beneficia tutta l'azienda e facciamo tutto questo in maniera molto pratica costruendo robot che non sono il classico robot che hanno in mente le persone quello fatto di latta difficile umanoide questo è il frutto dei film anni 90 i nostri robot sono semplicissimi sono robot fatti con un motorino delle batterie e hanno dei movimenti meccanici fisici e insieme al motorino le batterie che sono i classici componenti del robot mettiamo anche tutta la parte di componenti di riciclo di uso comune i robot possono avere per esempio essere fatti con bastoncini bicchieri cannucce a cui aggiungiamo dei pezzi fatti con la stampante 3D con la laser cutter ogni volta ne inventiamo direttamente noi internamente un robot diverso perché è più importante per noi il processo di costruzione e la parte creativa rispetto al risultato in sé che comunque alla fine di tutti i robot di tutti i laboratori i partecipanti portano a casa un robot funzionante che si muove realmente se lo dividono perché poi se lo portano collettivamente e invece per gli adulti anche lì lavorate proprio sulla costruzione di robot fate laboratori come dicevate prima di mentoring per esempio per chi ha già un'impresa e volete insegnare le competenze trasversali in quel caso passa sempre tutto attraverso il robot adesso poi diciamo mano a mano aggiungiamo sempre qualcosa siamo partiti dalla robotica come diceva Valeria che di fatto rimane il mezzo nostro driver principale però per esempio un annetto fa ci siamo formati su un nuovo tipo di educazione che noi non pensavamo neanche potesse esistere dico una parola che magari i presenti qua riconosceranno l'ARP che non è nient'altro che l'acronimo di live action role playing cosa succede in Scandinavia in Scandinavia sono 20 o 30 anni che esistono scuole licei che non hanno materie ma insegnano tutto attraverso i giochi di ruolo cioè faccio un esempio pratico per far capire questa cosa che sembra molto astratta ma ha del concreto e ha dei risultati pazzeschi devo studiare i romani divento un romano un romano costruisce i ponti le strade quindi nel mio gioco io costruisco i ponti le strade anche attraverso prototipi fisici e in questo modo io riesco a veicolare tutte le competenze non solo quelle scientifiche ma anche quelle storiche umanistiche artistiche eccetera attraverso il gioco a noi questa cosa è piaciuta da morire e abbiamo inserito adesso da un annetto a questa parte nella nostra attività non solo più la robotica ma anche i LARP quindi adesso quando partecipi alla nostra attività che tu sia grande o piccolo entri in un nuovo mondo entri in una storia entri in un'avventura e tu prendi le parti di un personaggio e attraverso quel personaggio tu riesci ad imparare cose che non pensavi fosse fosse possibile fare ed è una cosa molto molto bella è efficace assolutamente efficace perché poi se impari le cose così ti rimangono impresse molto più che a provare ad imparare da un libro che rimane abbastanza settico invece lì quando uno fa l'esperienza immersiva si immerge ed è difficile riuscire poi a non apprendere niente effettivamente dalla situazione avete in mente già altri progetti che prospettive avete da qui in avanti perché mi sembra quasi ad ascoltarvi che abbiate già raggiunto un punto di arrivo rispetto a quella che può essere una prospettiva di formazione ma noi sappiamo benissimo che non esiste un punto d'arrivo effettivo ma che ormai anche nel mondo lavorativo è un continuo di acquisizione di esperienze e di competenze voi che tipi di progettualità avete in mente tra qui ai prossimi anni che obiettivi vi siete posti volete specializzarvi in qualcosa ancora magari in intelligenza artificiale o avete già pensato a qualche cosa di ulteriore rispetto all'attività che portate avanti o che avete portato avanti fino adesso quanto tempo abbiamo per rispondere a questa domanda tipo 6 ore a parte gli scherzi a parte gli scherzi inizio io poi magari vale aggiungite qualcosa chiaramente parlando di formazione non si può mai parlare di un porto di arrivo come dicevi tu Fabiana quindi di fatto noi che siamo formatori perché questo siamo non possiamo essere esenti da formarci da continuare ad essere aggiornati quindi in realtà noi abbiamo sempre un miliardo di progetti in mente il nostro primo obiettivo diciamo così semplice semplice sarebbe quello di cambiare il mondo dell'educazione in toto quindi partendo dall'Italia magari che in realtà è il paese se vogliamo più complicato anche per fare questa cosa perché a livello strutturale anche qua abbiamo una forma mentis molto vecchio stampo che non ci permette di esplorare anche solo nuovi tipi di educazione che quando parli di un nuovo tipo di educazione sembra sempre qualcosa di molto astratto di nuovo e di molto poco concreto insomma sembra che tu stia sempre parlando dell'aria fuffa esatto il termine è esattamente quello pensano sempre che tu parli di fuffa hai bisogno sempre di un'autorevolezza che non sai come costruirti perché di fatto quella è quella è la cosa che stai facendo ci sono dei fondamenti scientifici ricerche che attestano quella cosa ma ovviamente nessuno va a leggere nessuno va a approfondire quindi in realtà noi vorremmo cambiare il mondo educativo italiano attraverso il nostro metodo educativo quello delle dieci regole di off passion e poi ovviamente l'obiettivo più in grande la nostra vision finale sarebbe dare la possibilità a tutte le persone del mondo di essere davvero felici perché per noi la felicità passa attraverso l'educazione attraverso l'educazione di qualità e attraverso un mondo in cui tutti possono davvero trovare la propria strada come l'abbiamo trovata noi due poi se Vale vuole aggiungere qualcosa so che avrà qualsiasi altro progetto ho avuto il dono della sintesi però avevi chiesto sei ore se sei riuscito a esprimerlo con una parola che è felicità assolutamente qualche altro progetto Vale che abbiamo? direi che il fatto di rendere le persone felici riassume assolutamente le nostre idee e proprio più in pratica come dicevi di rivoluzionare il mondo dell'education ci piacerebbe proprio che ci fossero dei bambini e ragazzi dall'asilo fino all'università che possano essere felici di andare a scuola che non vanno in una scuola noiosa in cui non vedono l'ora di uscire ma vanno in una scuola in cui giocano si divertono in cui è il posto migliore in cui possono essere e non vedono l'ora di tornarci una scuola che gli dia la possibilità fin da quando sono piccoli di scoprire tantissimi campi che gli apra la mente verso quello che succede al di fuori della scuola quindi che non insegni soltanto materie scolastiche ma che gli dia la possibilità di scoprire anche cos'è il mondo là fuori che possano andare in azienda che possano andare in giro per le strade e poi anche una scuola che non solo apra la mente ma gli permetta di scoprire la propria passione e gli dia gli strumenti giusti per coltivarla come dico spesso io ho una scuola che gli permetta anche di conoscere se stessi fino a fondo e che gli permetta di capire che una passione può diventare veramente la possibilità con cui vivere non è poco però devo dire che poi so che dobbiamo chiudere perché dobbiamo lasciare il palco tra pochissimi minuti ma so che un po' la scuola italiana ultimamente sta aumentando i progetti di robotica sono passi molto molto piccoli e un po' devo dire forse anche perché io ho iniziato ad aprire una discussione molto forte sul tema si sta anche discutendo di come il gaming possa aiutare la formazione ad apprendere anche qui giocando fino a diciamo qualche annetto fa parlare dell'utilizzo della robotica e dei videogiochi per provare ad apprendere veniva visto un po' come un'eresia dal mondo degli adulti perché veniva interpretato come una perdita di tempo un qualcosa che invece non serviva effettivamente alla formazione del ragazzo oggi c'è un po' più di sensibilità verso queste nuove modalità di apprendimento io mi sono posta l'obiettivo soprattutto da questo ministero di spingere fortemente questo passaggio cioè il fatto che si riesca ad imparare in una maniera differente si possa imparare in una maniera differente divertendosi ed imparando a puntare su di sé investendo su di sé avendo fiducia in se stessi con una parola chiave che mi sono un po' data come slogan principalmente che è quello di non avere paura non avere paura nel futuro non avere paura di investire in se stessi non avere paura di provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo e dire io lo faccio e poi vediamo che cosa succede se riesco effettivamente poi come calibrare le progettualità mano a mano però spero che le nuove generazioni vivano con meno timore l'ansia del futuro ma che invece vedendo ragazzi come moi prendano anche coraggio rispetto a nuove prospettive quindi io mi sento di farvi un ringraziamento per il tempo che mi avete dedicato secondo me un applauso a questi ragazzi se lo meritano e un imbocco per tutto è stato un piacere emmenso anche per noi grazie grazie Fabiana grazie ringraziamo anche la ministra per il tempo che ci ha dedicato e niente quindi vi salutiamo e grazie mille per essere stati qui con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti